ciao camillo sai cosa vuol dire salutare ma stai scherzando bene io ho risposto alla tua domanda e ora chef lei risponde alla mia cosa mangio per merenda questo pomeriggio guarda stavo già mi stavo già preparando molto semplice il cioccolato credo ti piaccia insomma il gusto di tanti ragazzi ed era anche il mio da piccolo io ho fatto una fetta di pane a lievitazione naturale dove grattugio sopra un po di cioccolato che è un cioccolato che va da 75 all'80 per cento di burro di cacao quindi un cioccolato puro e poi una mandorla quindi riempiamo di energia grattugiamo appena appena la mandorla energia e polifenoli questa merenda mi fa impazzire chef nonostante i polifenoli polifenoli sì questo salutare comincia a piacermi bene ricordiamoci che la prevenzione inizia dalla tavola grazie a tutti